Quanto tempo lavori in Mercurio? Lavoro qui in Mercurio dall'inizio, da quando l'azienda è stata creata e devo dire che è stato un cammino magnifico, un'esperienza che ogni giorno mi accompagna e mi porta a crescere e ad andare avanti, a vedere le novità sia della tecnologia sia nel mio lavoro. È un'esperienza di crescita continua. Cosa è cambiato in questi 25 anni dal punto di vista del lavoro in Mercurio e della tecnologia più in generale? A parte il funzionamento, la velocità sia dei sistemi operativi che delle macchine su cui girano, c'è stata un'evoluzione proprio dal punto di vista logistico, nel senso che noi prima per poter intervenire dovevamo recarci nei luoghi dove effettivamente venivano svolte le operazioni. Adesso si fa tutto da remoto e è diventato molto più semplice.